Pippo Cavaliere ha fatto una campagna elettorale straordinaria, seria, appassionata, entusiasmante e sta portando l'andella al balottaggio, portare il sindaco uscente, una persona capace di populismi raffinati portarla al balottaggio non era una cosa semplice. Mi auguro che questa grande energia che Pippo Cavaliere ha saputo raccogliere attorno alla sua proposta politica ci possa portare poi tra 15 giorni alla vittoria. Grazie.